Il mio armadio green Io cerco di seguire le tre R di ridurre, riciclare e riutilizzare Io credo che un capo che io ho preso, comprato che ho amato, possa avere una seconda vita quindi io invito le mie amiche a fare un aperitivo insieme e si scelgono dei pezzi del mio armadio è molto apprezzato oppure ogni anno dono tantissime cose in charity per negozi di seconda mano oppure facciamo il mercatino per una causa on-loose e poi cerco di comprare prodotti di qualità che possono durare più a lungo Per l'intimo cerco di essere attenta a capire e vedere quali materiali sono stati utilizzati nella realizzazione del capo per esempio che possa essere una fibra riciclata un cotone bio cerco di comunque stare attenta e mi piace essere consapevole e informato come consumatore perché credo che sia un grande potere sentirsi forte nella propria scelta abbiamo una grande responsabilità e abbiamo ogni giorno delle scelte da fare e cerchiamo di farle bene